SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi ci occupiamo di Coppa del Mondo di Scialpinismo con la Due Giorni della Val Comelico. Passiamo poi all'Extreme Badalice, alla sciarpinistica Pizzo Tresignori, per dare uno sguardo alla primavera con una delle Sky Rays più interessanti, ovvero la 30 passi di Marone. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato sulla pista nera di Sappada, con la terza tappa di Coppa del Mondo, che si è aperta con la gara sprint, una gara sprint che ha visto gli atleti confrontarsi su passaggi obbligati, cambi velocissimi e discesi tra pali direzionali. Qui a vincere sono stati Seppi Rodmoser, ovvero lo sprint per eccellenza, e Letizia Runa, Letizia Rucca solo all'ultima curva, però ha guadagnato l'oro di giornata. Per quanto ci riguarda, importante prestazione a livello giovanile, con Alessandra Cazzanelli tra categorie Spuar, e poi ancora Giulia Compagnoni, Albe di Silvestro, in gara junior donne, e Federico Nuncolini, una conferma, in gara junior uomini. Giusto al tempo di archiviare la gara sprint, è ancora spettacolo, sabato mattina, questa volta in Val Comelico, con la prova individuale, prova individuale che ha visto il comitato organizzatore vorrà essere promosso a pieni voti, un comitato organizzatore che in questi giorni ha dovuto lavorare davvero molto per proporre una gara sicura, una gara comunque tecnica e spettacolare. Qui a vincere è stato Kilian Jornet-Burgada e ancora una volta Letizia Rucca. Gli italiani però non sono rimasti a guardare. Una grande prova di Damiano Lenzi, che è salito sul podio, terzo posto per lui, un terzo posto davvero meritato. A seguire troviamo Manfred Reichheger e Pietro Lanfranchi, ma sentiamo i commenti a caldo del CT azzurro Oscar Angeloni, di Damiano Lenzi e della ragazza di casa Alba De Silvestro. Pitturina ski race, terza prova di Coppa del Mondo, l'Italia qui è il gran completo, è andata bene, positiva la trasferta. Giornata di sprint di alti e bassi, giovani grandissimi sempre lì davanti a combattere con le junior femminili e maschili, con gli espoir. Il senior è un po' di sfortuna, ma ci rifaremo sicuramente alla prossima. Nell'individuale invece è andata veramente bene, perché un terzo, un quarto, un quinto posto vuol dire che l'Italia c'è. C'è da lavorare ancora un po' sul settore femminile, ma nel complesso una trasferta molto bella. Per me oggi è stata una buona gara, ho finito al terzo gradino del podio. È stata una gara che nonostante il meteo l'abbia messa tutta per rovinarci la festa, gli organizzatori, Michele e tutti quanti, sono stati veramente bravi, hanno organizzato un percorso all'altezza della situazione. Correre qui con tutta la gente che c'è, che mi conosce, che mi sostiene, è una bella emozione. Poi sono arrivati anche tutti i miei compagni di classe, che mi hanno fatto un gran fans club, che proprio non me l'aspettavo, e quindi è stato bello. Non solo Coppa del Mondo in questo fine settimana, in Valdobbiadi, nei confini tra la pianura Veneta e le Dolomiti, domenica mattina è andata in scena una gara davvero bella, l'Extreme Badalise. Una gara che ha visto in aste di partenza la coppia del CS Esercito, composta da Matteo Edelin e Damiano Lenzi. Loro erano i favoriti dei pronostici e loro hanno vinto. Una grande prova e prima vittoria stagionale anche per l'Eida nazionale. Un'Eida nazionale che è in continua crescita e di sicuro ci regalerà grandi emozioni anche nel proseguo di stagioni. Al femminile Venividi Vicit, le due pluriridatte dell'Alta Valtellina, ovvero Francesca Martinelli e Roberta Pedranzini, hanno davvero dettato legge e sono giunte per prime al traguardo. Sentiamo le impressioni a caldo dei diretti protagonisti. Oggi la gara è andata più o meno come si pensava e si sperava che andasse, quindi per quanto mi riguarda sono contento. È la prima vittoria dell'anno e quindi speriamo che non sia l'ultima, e speriamo che sia di buon auspicio per una seconda parte di stagione, che spero sia più positiva della prima in cui per adesso ho fatto fino ad oggi o comunque ho sempre fatto fatica un po' ad emergere e a stare su alti livelli. È stata una bella gara nonostante il tempo, è uscito il sole a gara finita, però ci siamo divertite comunque, una gara varia, con tante salite, tratto a piedi nel bosco, comunque è stata davvero divertente. Spettacolo e questa volta con tanto sole e tanta polvere, in Alta Valsassina ci riferiamo alla Pizzo Tre Signori, gara valevole come tappa di Coppetaglia Trofeo Scarpa. Una gara davvero spettacolare con tanti atleti, 184 i partenti, ma anche davvero tanto pubblico. Una gara organizzata dai ragazzi del settore sci della S Premana, una gara che ha visto vari passaggi al Cimone, GPM della gara, un Cimone che è famoso per avere un panorama vista lago. A fare la differenza questa volta sono stati Michele Boscacci e Lorenzo Olsnet, due azzurri in cerca di ultimi test in vista dei campionati europei. Questi due ragazzi hanno fatto praticamente gara a sé, hanno fatto gara a spalla a spalla, erano quattro le salite prima del rush finale verso l'arrivo dell'Alpe Paglio e sono sempre stati vicini. I due valtellinesi se la sono giocata proprio nel rush finale. Nel rush finale Michele Boscacci è uscito per primo dal cambio e si è presentato in solitaria al traguardo. Terzo posto dietro a Olsnet per un comunque eccellente Filippo Beccari. È la prima volta che faccio questa gara sul percorso senior, sono stato qua diverse volte da junior, però devo dire che è bella comunque il percorso molto spettacolare, soprattutto con la bella giornata che alla fine è uscita oggi, discese bellissime e un bel tracciato velo tecnico, veramente bella. Nella gara femminile invece una sola donna al comando, Laura Besseghini, una delle regine dell'ultimo trofeo Mezzalama, ha dato davvero spettacolo sulle pendici dell'Alpe Paglio, vincendo questa tappa di Coppa Italia. Per lei è anche una dedica speciale all'amica e i partner di gara Raffaella Rossi. Secondo posto per Lucia Moraschinelli, terzo per Federica Osler e anche in questo caso voce ai diretti protagonisti. Sono contenta oggi, una giornata stupenda, anche col sole la neve è bellissima, mi sono divertita un sacco. L'unico ne ho la mancanza di Raffaella che avrebbe dovuto esserci anche lei oggi invece a casa infortunata e devo dire che mi manca molto. Come al solito diamo uno sguardo alla primavera, diamo uno sguardo alla primavera delle corse e lo facciamo parlando dell'apertura iscrizioni della 30 passi di Marone. La gara a Bresciana, giunta quest'anno alla sua terza edizione, riserva importanti novità che vi sveleremo nei prossimi TG. Per ora vi basti sapere che la prova vertical sarà prova unica di campionato italiano Juniors di Skyrunning, mentre ci sarà come al solito anche la Sky Race, la Sky Race da 17 chilometri e mezzo con 1240 metri di salita e altrettanti di discesa. Quindi apertura iscrizioni e appuntamento fissato per il 15 maggio con una delle competizioni sicuramente più scenografiche e spettacolari della primavera di corsa. Siamo alla quarta edizione per la Sky e alla seconda per la Vertical. Siamo passati dai 200 atleti della prima Sky 4 anni fa ai 450 complessivi tra Sky e Vertical dello scorso anno. Quest'anno obiettivo 5,50, obiettivo sold out, speriamo di raggiungerlo e di ottenerlo e con questo obiettivo l'idea di aprire le iscrizioni al 14 febbraio. Prima settimana low, 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 low cost per scendere a livello di 1 euro al chilometro e poi a scalare fino a 5 giorni prima delle iscrizioni, sperando di aver già chiuso però. Questo fine settimana andranno in scena i campionati europei di sci-alpinismo previsti sulle nevi andorrane. Come al solito li seguiremo nei dettagli con resoconti, classifiche, video e immagini sul sito. Per quanto riguarda le gare, il nostro consiglio è sempre il solito. Veloci i cambi e giù a bomba in discesa. SDM News il primo TG degli sport outdoor di montagna a cura di Maurizio Torri